Lo Stato c'è e non lascia solo chi dice no alla camorra. Il prefetto Domenico Cuttaia, commissario di governo per il coordinamento anti-racket e anti-usura, ne parla affrontando il caso del parrucchiere Salvatore Castelluccio, che nel 2015 aveva denunciato il pizzo. Il commerciante negli anni ha avuto una serie di difficoltà e a settembre ha chiuso il suo negozio nel centro storico. Un caso che ha scatenato polemiche, ma Cuttaia non ci sta a sentire che lo Stato abbandona le persone. Nel maggio scorso, infatti, gli sono stati elargiti 23.442 euro, mentre alla moglie 42.000 euro per le lesioni che hanno subito. E adesso è iniziata l'istruttoria a favore dei figli. Cuttaia parla dalla prefettura, dove si è tenuta la seconda riunione del comitato, dopo aver incontrato il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore Alessandra Clemente. È l'occasione per fare un bilancio della legge e parlare anche di un paradosso. Non si riescono a spendere i soldi a disposizione, perché ho l'impressione che molti non conoscono che esista questo strumento. Ha spiegato il commissario. Relativamente alle istanze presentate, e questo è un dato molto importante, quest'anno sono state presentate a Napoli 34 istanze per estorsione, rispetto alle 16 dell'anno scorso e rispetto alle 17 del 2015. Quindi, teoricamente, uno potrebbe dire che stanno aumentando le estorsioni. No, aumentano le denunce. Stanno aumentando le denunce, il che è un fatto positivo. Dall'inizio del 2017 a Napoli sono state presentate 34 istanze per racket e ne sono state accolte 28, per una somma di 730 mila euro e 15 per usura, per quasi 2 milioni di euro. In campagna le richieste sono state 48 per il racket e 36 per l'usura. Ieri in prefettura sono state esaminate complessivamente 44 posizioni e sono state deliberate 11 largizioni per danni derivanti da attività estorsive e nuove concessioni di mutuo in favore. L'ammontare complessivo dei benefici attribuiti dal Comitato è di 1 milione e 84 mila euro, soldi che vengono concessi subito, anche a processo ancora in corso.